A questo punto inizia la trasmissione. Tutti i partecipanti sono in grado solo di ascoltare. Buonasera a tutti, eccoci arrivati qui al classico webinar del mese insieme a Dai G. Io sono Arduino Schenato, hereforex.com, mi conoscete, qua al massimo mi presento meglio. Un saluto a tutti quanti i partecipanti, vedo che state entrando tutti nella sala, quindi aspettiamo ovviamente qualche minuto, così vi posizionate davanti al computer, senza popcorna. Lasciamo la serie tv di questa sera che vorrete vedere. Oggi si parla di false rotture, è un tema che nell'ambito trading, insomma, penso di essere stato, adesso non voglio fare, però tra i primi in Italia tanti anni fa a parlare di queste cose, e continuo a parlarne tuttora, perché? Perché a livello tecnico, a livello grafico, il mercato vive di false rotture, quindi si alimenta con queste false rotture, quindi avere una buona preparazione su cosa sono, come si formano e magari anche, se si può, come tradarle, in questo webinar andremo a trattare, quindi tutti questi temi. Va bene? Allora, mentre intanto entrate tutti nella stanza, mi presento un attimo, faccio una brevissima presentazione, vedo anche un po' gente che conosco, ma vedo anche molte persone che non ho mai visto, quindi non ho mai visto il nome, quindi bene, io sono Ardino Schenato, tra l'altro collaboro con IG da ormai il 2012, quindi sono ormai, abbiamo detto, dieci anni, quasi undici, in realtà sono un cliente IG da molto più tempo, quindi anch'io come voi sono, il mio broker è IG, ho questo sito dal 2010, yearforex.com, ho il canale YouTube che potete trovare, come quello di IG, cerchiamo di portare sempre del didattica, del materiale che possa essere funzionale all'obiettivo, ovvero a essere intanto consapevoli di quello che si fa, e poi, prima di tutto, essere dei gestori del rischio, quindi non perdere, e poi se si riesce, guadagnare e soprattutto essere costanti. In questo sito trovate un sacco di cose, un sacco di guide, dei corsi formativi, alcuni gratuiti, alcuni no, trovate dei servizi operativi, il Platinum per esempio, lo Stock Insider, un sacco di cose, quindi se volete potete andare a vedere, qui è anche il canale YouTube. Bene, facciamo Price Action, quindi io sono stato proprio il primo trader in Italia, che in tutta Italia ha girato, nei primi anni, nel 2010, 2011, 2012, e poi tuttora in realtà, e ho portato in Italia, in vari eventi, anche dal vivo, e non solo, in realtà come oggi, il mio approccio al mercato, che a livello tecnico, quindi a livello di operatività, proprio sul mercato, è esclusivamente grafico, esclusivamente relativo, ai movimenti di prezzo, quindi direi che siamo nel posto giusto, con le persone giuste, e oggi si parlerà appunto di queste false rotture, da chi le trada, da chi le segue, qui vedo svariati utenti del Platinum, per esempio comunque gente che è in Airforex, quindi può confermare assolutamente. Allora, bene, 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 chi non sente, se doveste avere dei problemi di audio, qualsiasi problema, sapete che a volte, può succedere con, con, GoToWebinar, uscite rientrate, e non ci sono problemi, questo è, un po' la cosa che vi posso dire, e che, io lo uso da molti anni anch'io, come IG, ok? Very, very, very good. Allora, false rotture, allora intanto cosa si intende per false rotture, e quali io utilizzo maggiormente, tra l'altro, qui abbiamo un grafico di Euro-Dollaro, che di false rotture, da un punto di vista operativo, ne ha fatte veramente un sacco, quella di oggi, che si sta venendo a confermare, potrebbe essere definita una falsa rottura al rialzo, quindi siamo proprio perfettamente capitati nella giornata giusta, fate conto che, io questo webinar l'ho programmato con IG un paio di mesi fa, quindi non è che potevo sapere che oggi l'Euro-Dollaro, però meglio, perché così abbiamo anche un esempio proprio dal vivo. Comunque detto questo, allora porto il grafico qui, così non c'è nulla, perché vi faccio un disegnino, e vi faccio capire di che cosa parlo, quindi entriamo subito nel vivo del webinar. Allora, se avete domande, avete visto, c'è la chat, quindi potete scrivere, intanto saluto tutti perché vedo svariati buonasera, buongiorno e buonanotte, quindi buongiorno e buonasera a tutti, io adesso vi mostro delle cose, se non risponderò subito alle domande, non preoccupatevi che tanto poi rispondiamo a tutti, ok? Allora, le false rotture che cosa sono? Perché dico che il mercato vive di false rotture? È così, poi ve ne accorgerete, oggi sfacciamo un po' di teoria, poi voi magari potete andare a vedere i grafici nel passato, vedrete che cosa succede, magari fate un po' di paper e andate a vedere poi nel prossimo futuro quando succede qualcosa ve lo scrivete, ve lo annotate e capite. Allora, il mercato solitamente, un qualsiasi mercato, diciamo che ha tre strutture di tendenza che può avere, c'è una tendenza short, poi più o meno bella, una tendenza long, più o meno bella, e diciamo, chiamiamola così, una struttura a tendenza laterale, dove magari fa questo, ok? Così ho anche unito i pezzi. I mercati tendono a muoversi così, quindi io per natura, siccome mi piace essere molto positivo di mio, anche come trader, mi piace essere molto reattivo, anche ai, chiamiamoli fallimenti, alle perdite, a quello che volete, come chiamarli, non c'è problema, quindi diciamo che io festeggio sempre, gestisco le cose in maniera molto molto ottimistica, e il trading lo vedo in maniera, seppur è un lavoro difficile, lo cerco di tenere semplice, keep it simple, e uso spesso questo mantra che è il less is more, il meno è più, quindi in effetti il mercato cosa può fare? Può scendere e salire, può avere una tendenza al ribasso, una tendenza al rialzo, e può avere una situazione in cui, in un momento storico che può durare più giorni, più settimane, più mesi, può stare laterale, quindi con delle bande di oscillazione, non fa altro il mercato, avete capito? Quindi il mercato tende a muoversi in tendenza, short, long, o sta laterale, quindi è inutile che noi ci andiamo a intrigare, in studi troppo complicati, molto spesso anche confusionari, che hanno troppe scelte operative, quando invece abbiamo poche scelte operative, cose molto semplici, cose che si sanno far bene, se ci sono si fa, se non c'è non si fa, poi si gestisce. In queste fasi, quindi tendenza short, lateralità range, tendenza long, praticamente sempre, noi troviamo delle false rotture, noi troviamo dei momenti in cui il mercato fa finta di andare da una parte, e va dall'altra. Questa potrebbe essere la definizione, una volta c'era il devoto Oli, il vocabolario, da vocabolario, falsa rottura, uguale, il mercato ti fa finta di andare in una direzione e va dall'altra. Ecco, diciamo che in maniera molto semplicistica è questo, quindi sia se siamo su un trend ribassista, sia se siamo su un trend ribassista, e sia se stiamo in una lateralità, ovviamente essere un po' ampia, vedrete che ci troveremo di fronte a delle situazioni in cui ci possono essere delle false rotture, cioè dei momenti in cui il mercato fa finta di andare da una parte, e poi scivola giù. Oppure siamo su una zona laterale, fa finta di continuare a salire e poi scende. Oppure fa finta di rompere al ribasso e poi riprende. Oppure, guardate, va, 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 fa finta, vedete, di scendere, bene, poi riscende ancora, qui rompe, poi riparte. Quindi la falsa rottura, cancello quello che ho fatto adesso, è questa. Quando il mercato fa per esempio così, e poi fa questo, recupera. Cioè sfalsa per esempio dei minimi. Poi magari spinge qui, fa così, e fa questo. Eccola qua. Queste qui sono false rotture, sono falsi massimi, quindi il mercato fa dei rialzi e poi li riprende e rientra giù. Diciamo che, da un punto di vista teorico, quei disegnini è abbastanza semplice, poi ovviamente bisogna andare sul mercato. Da un punto di vista laterale, dove spesso le false rotture sono ancora più facili, ma in realtà non è proprio così. Però, soprattutto per chi all'inizio, potrebbe essere, no? Abbastanza semplice, vedere le false rotture, è quando c'è un range, il mercato fa range, il mercato magari fa il suo, ovviamente, e poi va qui e fa questo. Pam, pam, e recupera. Lo potrebbe fare anche in più giorni, eh? Quindi io vado a lavorare su, grafici daily e weekly, ecco questo non mi sono scordato di dirlo, per chi è qui, ovviamente non ha mai sentito nulla di me, e di quello che faccio. Tutta questa, tutto quello che sto dicendo, infatti io gli esempi che prenderò sono principalmente su daily e su weekly. Ok? Adesso andremo a vedere anche degli esempi, anzi, mi piacerebbe che voi stessi mi diceste un mercato e andiamo a vedere come questo mercato ha reagito, non so, negli ultimi 3-4 mesi, 2-3 mesi, adesso vediamo, potrebbe essere anche solo 2-3 settimane, perché potrebbe averne data qualcuna molto, molto nel passato recente, si è comportato con queste false rotture. Quindi se avete qualche mercato, volentieri a me piace non avere slide e andare proprio sui mercati diretti, sui mercati attuali. Ok? Quindi, questo è un po' la cosa, quindi qui poi sale, poi magari rompe e poi magari rompe e va. Guardate cosa ho disegnato, senza volere, in modo così inconscio, guardate cosa ho disegnato, ho disegnato questo, poi lui cosa fa? Fa una falsa rottura e continua. Diciamo che il mercato vive di questo, il mercato ha bisogno di andare a prendersi, siamo qui, di andare a prendersi questo e poi andare giù. Si dice che il mercato a volte ha bisogno della liquidità che c'è qui, quindi per esempio di stop loss, di ordini che ci possono essere qui per andare poi ad avere più forza nel movimento. Poi, sinceramente a me non interessa il perché del perché del perché per fare trading. A me interessa capire il movimento, capire come si muove il mercato e da lì andare a definire un piano d'azione e un'operatività. Quindi a me non interessa tanto, ripeto, i motivi che portano a. molte volte ci sono persone che si avvicinano ai mercati, si avvicinano al trading e vanno a focalizzarsi molto su ah ma siccome la macroeconomia dice così ed è uscito quel dato così ma il mercato ha fatto l'inverso, non capisco perché. Allora mi chiedono perché Arduino ha fatto così se l'inflazione è i tassi sono la Fed fa questo la BC è quell'altro e questo è quell'altro e non si capacitano e poi si bloccano fanno freezing no? E non riescono a operare perché vanno a cercare di capire il mercato quando il mercato spesso si muove anche irrazionalmente non per forza perché deve muoversi in quel modo. Ecco perché io mi affido esclusivamente dati grafici di time frame alti pur facendo un trading di breve termine medio ciò per me significa qualche giorno qualche settimana e le mie strutture grafiche quindi per esempio in questo caso parliamo di false rotture le false rotture le vado ad identificare esclusivamente su grafici daily weekly ok? va bene? Adesso vi farò un po' di esempi qui più che altro perché a me le false rotture seppur ci sono spesso sia in svariate strutture io preferisco lavorarle nella tendenza short nel momento in cui abbiamo un mercato che ha una tendenza short chiara nelle tendenze long viceversa quando un mercato è long chiaramente e quando ci sono dei range va benissimo perché se i range sono range sono ampi adesso per esempio prenderemo magari possiamo prendere l'oro l'oro è a un range esteso da me da anni da un paio d'anni e quindi quello per esempio potrebbe essere comunque avete capito? allora in questo caso qui per farvi un esempio poi vengo anche da Giuseppe che mi dice già che ha visto forse un titolo poi lo vediamo e lo vediamo sì sì allora guardiamo qua il mercato intanto io vado sempre su weekly e capisco la direzionalità perché voglio la direzionalità per me la direzionalità è importante perché io ho bisogno di cercare le false rotture principalmente in trend quindi se c'è un trend molto stabile molto persistente come è per esempio questo trend del grafico di euro dollaro weekly settimanale non vado a cercare delle false rotture per andare long difficilmente ok quindi tutto quello che potrebbe fare quando lui inizia un movimento e potrebbe per esempio guardate qua lui potrebbe fare vedete che fa dei minimi e poi li rompe li recupera queste cose qua se è un trend chiaro non le vado a vedere non le vado a lavorare cerco di lavorare esclusivamente o comunque di porre come importante di avere come informazione operativa importante esclusivamente le false rotture che avvengono in trend quindi in questo caso in un trend short quali saranno quelle che sparano verso l'alto e recuperano adesso ve le farò vedere quindi in questo caso no oppure qua non ne vedo altre potrebbe essere un po' questa però non so questa è quella più evidente quindi io non vado a fare il contro trend diciamo se il trend è chiaro con le false rotture attenzione a volte in certi casi può essere anche buono e profittevoli ma a noi non interessa ok a noi interessa che cosa interessa fare guadagno interessa essere costanti interessa che il trading ci dia un reddito un reddito cosa significa non è rendita lo dicevo anche ieri con i miei trading room è un lavoro quindi il trading è un lavoro e dobbiamo cercare di portare a casa il nostro nelle varie oscillazioni del mercato ok quello che io faccio tanti anni io sono un trader indipendente oltre a avere anche il sito che vi ho fatto vedere eccetera ok quindi in questo caso tra l'altro faccio trading ormai da 17 anni quindi potete ben capire che un pochino di esperienza ce l'ho allora andiamo a vedere poi perché poi il daily solitamente anche se anche il weekly diciamo ci può dare delle impostazioni il daily è quello che è un po' più operativo è quello che ci dà spesso i trigger di conferma le situazioni confermative è già di un weekly di un certo tipo in questo caso specifico per esempio prendo magari le ultime da qui le ultime mesate quindi da marzo ad oggi c'è un sacco di roba qui non vorrei essere troppo cioè non vorrei però siccome ci sono esempi cercate di seguire non vorrei essere troppo lungo dopo andiamo a vedere anche il titolo di Giuseppe però per farvi capire allora guardate c'è una tendenza ci troviamo su un massimo quindi il mercato pullback ogni volta che fa pullback quindi ogni volta che fa questo lui potrebbe generare delle false rotture oppure continuare ecco perché ormai da un po' di tempo da anni ormai utilizzo il paracadute cioè lo stop ampio però adesso vi spiego allora per esempio qui abbiamo movimento massimo in questo caso quindi abbiamo il primo massimo che può portare giù guardate cosa succede il mercato va sfalsa rompe i massimi e poi recupera questa è la prima falsa rottura in un mercato in trend è ovvio che io solitamente opero con dei trigger con dei segnali quindi ci devono essere poi dei trigger operativi sarebbe meglio che il mercato mostrasse i trigger quando è che la falsa rottura ha più efficacia nei pullback quindi quando il mercato fa questo cioè quelle migliori da prendere eccola lì vedete fam falsa rottura quando nel movimento di falsa rottura lui fa due tipologie di setup la prima possiamo definirla la pin bar quindi questa quando lui sullo short ovviamente fa questa sul long farà questa quindi crea una barra con poco corpo sopra e uno spillo abbastanza ampio un'ombra abbastanza la seconda che può essere riferibile a una falsa rottura assolutamente tradabile e quindi che giustifica anche un'operazione è quando lui nell'ottica short aumenta di volatilità come ha fatto oggi per esempio cioè lui crea una barra di vola alta col corpo grosso quindi e ovviamente long al contrario una bella barrona verde o bianca dipende da che colori usate quindi una barra bella bullish quindi con volatilità piena corpo pieno e al contrario così quindi io una di queste due nell'ottica delle false rotture nei pullback sono le due barre due tipologie di candlestick che preferisco vedere quando si viene a verificare un false breakout una falsa rottura gli aumenti di volatilità sono per me importanti o le pin bar cioè queste qua prime che avete visto è tutto chiaro fin qui avete domande adesso vediamo un po' la situazione ok è tutto chiaro bene allora essendo queste due le tipologie guardiamo qua lui qui non fa questo qua è il primo qui guardate lui fa falsa rottura ma non fa qui non fa né una pin bar questa e non fa nemmeno un aumento di volatilità quindi non non ingrossa il corpo dov'è che invece lo fa sulla terza guardate qua lui fa il primo pullback fa la prima falsa rottura e poi fa la vera falsa rottura che è questa guardate che bello lui va rompe addirittura rompe in chiusura i massimi precedenti e il giorno dopo si rimangia con volatilità piena corpo pieno eccolo lì tutta la vola precedente grafico daily è non grafico a 15 minuti a un'ora quello che volete 5 minuti 1 minuto 30 secondi 20 minuti 4 ore anche no voglio vedere un grafico daily o anche weekly in realtà il daily diciamo su queste cose è molto molto informativo perché addirittura anticipa spesso degli swing high o low sul weekly che poi diventano addirittura delle conferme operative ok quindi in questo caso qui abbiamo le caratteristiche di un false breakout e qui cancello tutto con aumento di vola in trend qui abbiamo un trend short di lungo termine non serve che vado indietro ma anche questo guardate qua guardate qua scusate ma non ve li vedo qua con voi non ho io sapete non mi preparo cose guardo con voi il mercato allora guardate qua pam falsa rottura non c'è aumento forse qui un po' qui si poteva provare a fare un'entrata poi vi dico come si fa a gestire questa pam guardate qua pam bella bella va bene andiamo sull'esempio quello che avevamo fatto prima eccolo qui questo è l'esempio quindi siamo in una tendenza prima falsa rottura non genera aumento di volatilità e nemmeno pinbar addirittura poi genera delle pinbar long e qui invece questo è anche un doppio massimo lower close è uno dei miei trigger operativi trovate anche tra l'altro degli webinar sia sul canale di G che sul mio dedicati a doppio massimo lower quindi trovate tutto e qui quindi si può gestire un'operazione come si va a gestire un'operazione adesso oggi non è il momento di spiegare come entro come esco anche perché la gestione sapete è molto molto delicata noi sul platino ogni giorno facciamo le trading room io faccio vedere quello che faccio ogni giorno spiego insomma però 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 assolutamente direi che questa è per esempio gestibile dove si può andare ad entrare più o meno su questo livello quindi più o meno sul livello di rottura e lo stop come sapete a me non piace mai metterlo troppo vicino dove si potrebbe mettere qua bisognerebbe vedere dove è il perché per me è uno stop paracaduta è il massimo investimento infatti io lo chiamo ho un modo di vedere il trading un po' mio mi sono fatto nel tempo gli stop classici che vedete scritto ovunque e risk reward e tutte queste cose qua non li li ho fatti anch'io ma da un po' di tempo non li faccio cose un po' diverse quindi sto praticamente short da qui posso per esempio prendere la volatilità di questa barra raddoppiarla qua e mettere un paracadute qua sopra per esempio quindi cercando di evitare che lui mi faccia un ulteriore falso ok al massimo potrei uscire perché altrimenti qui se lui fa un ulteriore falso la terza volta solitamente al terzo punto al quarto questo continua però il trend è molto forte lui ha continuato quindi se io vado a vendere qui facciamo esempio 1.10 e mezzo 1.10.50 e il massimo è a 1.11.80 il mio stop paracadute va minimo messo o metà o dipende anche se ci sono degli swing precedenti qui possiamo metterci o a metà o addirittura a fatto 100 la volatilità qua si può anche raddoppiare e mettere 100 qua quindi tenere almeno un paracadute del doppio della volatilità del mio setup di entrata poi vabbè la gestione non è oggi il momento è molto importante sapete che ho fatto anche dei corsi dei seminari dei video su questo sulla gestione quindi ci sono tutti anche in rete ci sono anche quelli sul sito eccetera guardate un'altra falsa rottura questa volta è fatta con una pimba guardate che bello lui praticamente va qua sotto crea il primo ritracciamento qui lui fa vedete fa minimo massimo primo swing secondo swing bam guardate qua fa pavimento va a fare lo swing rompe il massimo precedente va a testare gli altri sfalsa quindi quando dicevo che il mercato va in una direzione e poi quindi rompe dei massimi precedenti nel caso short e poi li recupera e se li recupera attraverso una pimbar o un aumento di volatilità con il corpo ampio il corpo lo voglio ampio in questo caso comunque era una volatilità ampia lo stesso perché abbiamo vedete lo spillo molto molto ampio e anche qui short qui anche qui dove si può mettere il paracadute io lo metterai almeno qui metterei un paracadute ampio quindi voglio investire 100 facciamo esempio quei 100 li spalmo meglio perché così nel caso in cui si inizia ad andare qua potrei valutare se quella è una falsa rottura o meno quindi perdere meno nel caso in cui voglio uscire o addirittura rientra poi quante volte vi è successo ditemi di fare le classiche cose che ormai dicono tutti i libri di trading tutti quanti ah c'è il pattern no io entro long sul pattern e metto lo stop qui poi lui fa così ti fa la falsa rottura poi rientra e tu sei lì no quindi diciamo che io ragiono un po' in modo diverso ok quindi preferisco avere questi stop paracadute poi andiamo a vedere altre situazioni di questo non può definirsi un qui beh bellissimo questo però non è una falsa forse questa si potrebbe definire una falsa vedete questa perché lui continua al ribasso fa il primo massimo poi ne fa un altro ma non fa aumento di volatilità poi ne fa un altro fa aumento di volatilità lo fa più qui l'aumento di volatilità quindi in realtà si può aspettare anche una candela in più a volte guardate che aspettare qualche barra in più a volte una barra in più non è importante anzi a volte può aiutare se non vi è chiaro cioè stare fermi è un'operatività ricordatevelo stare fermi può essere assolutamente un'operatività profittevole a volte quindi non operate se non c'è una situazione chiara come abbiamo detto l'obiettivo è quello di fare bene di fare trading per guadagnare anche qui qualcosa io volevo arrivare su questa questa è proprio la situazione che devo dire oggi si viene a creare e questa si può definire una falsa rottura perché perché guardate che cosa succede di lui praticamente è in un movimento short l'ultima gamba è questa qui guardate aveva fatto una bella pinbar non aveva fatto falsa rottura di massimi di un altro pullback però era tradabile io ho tradato tra l'altro ho anche preso qualcosina perché poi sono riuscito a uscire benino ho preso poco ma ho preso qualcosa ecco che qui guardate il mercato ha fatto un massimo un altro massimo e qui ha fatto ieri l'altro ieri insomma negli ultimi giorni ha tirato su parecchio ha fatto un bel rally al rialzo e guardate un po' quest'oggi aumento di volatilità ribassista quello lì quindi sfalsa il massimi fa un falso fa pensare a tutti di voler crescere ancora io stesso qui ero più long idealmente nel breve per andare magari verso qui e poi magari ritornare short questa diventa la classica falsa rottura con aumento di volatilità che può portare a un ulteriore gamba ribassista o comunque ritornare magari sui minimi uno si può fare un trade ovviamente poi si gestisce ricordiamoci che il mercato tutto quello che ci dà deve essere gestito non è che noi qui allora adesso vai 95 boh non lo possiamo sapere noi siamo trader quindi non io da trader non sono una persona che deve andare a prevedere ciò che fa il mercato ho una view la mia view la rispetto cerco di essere sicuro di quella che è la mia view ma se il mercato fa altro devo gestire mi raccomando io faccio quello che vedo il mercato fa una cosa io cerco di fare quello che mi dice ok quindi in questo caso può diventare interessante domani mattina noi ne parleremo qui sicuramente molto interessante come falsa rottura prezzo che è ritornato addirittura non solo sotto i livelli di massimi precedenti in grande volatilità ma addirittura sotto l'area 1 della zona questa qui praticamente che avevo segnato per appena sopra 1 che sapete è anche un'area psicologica quindi domani si potrebbe pensare di inserire un entry poi la grande volatilità ci potrebbe permettere anche di inserire un entry leggermente sul ritracciamento quindi tipo in area 1.01.20 1.00.20 1.00.10 anche qui qui il paracadute in realtà si può anche non mettere troppo ampio però a me piace sempre avere la tranquillità che anche se sale molto non vado ad avere problemati quindi se entro short qui per esempio mettersi magari a 1.03 1.03.10 con il paracadute può essere buono abbiamo spazio rischiamo 100 facciamo esempio qui questo è il nostro investimento massimo cerchiamo di andare a prendere magari questo minimo o andare a prendere anche lo 0.97 0.96.50 se ci va potrebbe farsi quel minimo quindi si va a lavorare su questo bellissimo perché oggi ripeto l'euro ci permette di avere un buon trigger la sterlina no perché non aveva fatto un vero cioè sì dà un trigger ma non è una falsa rottura di quelle che volevo mostrarvi per quanto riguarda dollaro yen dollaro yen nel recente passato ne ha fatta una bella eccola qua questa qui che si nota meglio sul daily sul weekly questo qui sarebbe il weekly io l'ho anche tradatta tra l'altro l'ho anche condivisa con gli utenti platinum eccola qui questa sarebbe la falsa rottura che voi vedete sul weekly sul daily sarebbe questa ve la faccio vedere eccola qua vedete cosa è successo qui avevamo una tendenza long e il mercato guardate qui che falsa rottura che fa super spettacolare minimo qua falsa rientra tra l'altro con una barra spillo anche in volatilità recupera se voi andate a prendere queste due barre quindi la barra rossa e la barra verde se noterete noterete che diventa una pinbar quindi se andate a prendere la prima è una barra short la seconda va ancora più giù fa il 6 minimi recupera e diventa una pinbar in due candele falsa rottura con pinbar aumento di volatilità bellissimo io ho tradato poi la chiusura settimanale perché la chiusura settimanale è questa poi però la falsa rottura c'era tutta eravamo in un mercato in tendenza long nel medio termine abbiamo visto il weekly come è importante quindi vedete che anche il long il posizionamento long è sicuramente un posizionamento che si può fare ed è identico ok nei trend definiti come per esempio il dollaro yen l'euro dollaro possiamo anche metterci il neozelanda dollaro boh ce ne sono un sacco ok ci sono un sacco di cose quindi possiamo vedere questo questo perché è sicuramente interessante per quanto riguarda invece i trading range noi abbiamo l'oro che tra l'altro oggi crea una falsa rottura anche se molto da attenzionare eccolo qua questa è una zona di domanda questa è una zona di offerta a lungo termine questi sono i classici i classici come dire trading range di lungo termine su questa zona bisogna stare molto attenti perché proprio dove è si potrebbe venire a creare una falsa rottura per esempio anche se in questo caso l'oro il dollaro forte tutto quello che volete potrebbe in effetti portare anche un movimento più ribassista però dobbiamo essere molto attenti guardate qui qui non è andato a sfalsare i massimi però la possiamo comunque identificare questa come una pin bar con falsa rottura perché perché in realtà sì è vero che qui ci sono i massimi ma guardate quanti massimi qui aveva fatto importanti che poi avevano buttato giù i prezzi eh tanti quindi il fatto che lui sia arrivato qui e qui abbia fatto questo andando a ritestare i massimi qui e poi è venuto giù facendo una pin bar questa qui si può definire una pin bar nel range da vendere ovviamente siamo su weekly quindi il weekly tende a svilupparsi ovviamente ci mette di più come se guardate un mensile è normale è normale che sia questo no? è una barra weekly una settimana quindi lo sviluppo del trend dei movimenti è sicuramente uno sviluppo maggiore ci mette di più può darvi di più ma ci mette di più io li trado questi time frame io la giuro solo con questi time frame weekly e daily però vedete che poi nell'ottica operativa vi assicuro che l'accuratezza grafica ovviamente io facendo solo prezzo io non guardo le news non guardo il calendario non guardo niente di quello io guardo solo il grafico e mi fido del grafico è ovvio che se mi devo mettere a guardare un grafico a un'ora un grafico a 15 minuti addirittura peggio più giù non posso fidarmi totalmente qui invece mi fido totalmente con i miei stop con la gestione del rischio con anche certe chiusure in perdita per carità che adesso non pensiate ma mi fido secamente del prezzo price is the king il re è il prezzo è il re allora andiamo a vedere che cosa ci stava dicendo Giuseppe perché all'inizio Giuseppe adesso penso che vi ho spiegato anche un po' facendo anche degli esempi anche diversi quindi long short diversi mercati dollar ien euro dollaro oro con questo trading range di medio e lungo termine insomma ce n'è diceva diceva Giuseppe diceva buonasera forse apple nel daily quindi andiamo a vedere apple vediamo un po' apple eccola qua o session eccola lì ve la prendo subito allora intanto adesso tu fai vedere il daily però allora bene mi piacciono queste 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 domande perché perché così capite un po' quello che io penso allora intanto il settimanale dico a Giuseppe ma lo dico un po' a tutti ha una chiara tendenza negli ultimi mesi voi vedete una chiara tendenza qui negli ultimi mesi domanda io no io no poi che apple sia un ottimo titolo che sia long da sempre benissimo ci sta eh nell'analisi però se vogliamo nel breve non c'è una chiara tendenza quindi attenzione perché le false rotture quando non c'è una chiara tendenza io sto parlando delle false rotture nelle tendenze o nei trading range consolidati eh sono le cose migliori quindi la struttura deve essere sempre molto chiara ragazzi ok struttura molto chiara detto questo eh io per fare qualcosa qui aspetterei prima la chiusura settimanale siamo a martedì ci vogliono qualche giorno non è un problema magari chiude qua magari chiude qua e eh e poi magari potrei andare a vedere le varie cose eh qui in realtà sì si potrebbe definire come falsa rottura però l'andamento non è chiaro perché adesso è short nell'ultimo periodo ma era stato long e c'era stata una grandissima gamba long quindi è un particolare magari fa questo e poi recupera attenzione è molto importante che nella price action nel price action trading che faccio io almeno che è quello un po' più puro poi io l'ho personalizzato ho messo dentro no i trend la volatilità i livelli i livelli di estensione tutta una serie di cose gli swing però tutto tutto prezzo e quindi io ho bisogno di eh di una struttura che sia il il più possibile chiara se per esempio mi guardo in questo caso Apple mi viene in mente e vi faccio vedere dove potrebbe essere una falsa rottura che vedo qui in un trend più chiaro perché se io vado qui sul settimanale dal mese di aprile al mese di giugno quindi no eh c'era successo questo guardate qua quindi da aprile a giugno guardate qua il mercato aveva iniziato a muoversi sotto i minimi quindi qui vedete che se io non vedo questa parte perché questa parte poi ha un po' negato il tutto io eh vi dico che qui c'è un cambio di tendenza almeno nel breve no? normale ok? quindi io sono più propenso a vendere se io vado a avere quindi un trend definito di quel tipo sul daily che quindi è uno short guardate cosa succede qui succede il primo movimento di pullback pam pam lui lo risale fa questo falsa rottura aumento di volatilità barra di aumento rottura dei minimi movimento questo mi serve a me due, tre, quattro giorni o settimane se sono su un weekly in questo caso è un giornaliero e vado a prendermi il mio ok? quindi preferisco quando lui fa queste cosine qua per esempio in questa fase qui poteva essere più chiaro magari il long anche ma non l'ha mai fatta le false rotture sui pullback qui sto cercando di vedere se c'è qualcosa che è interessante ma no quindi le false rotture al rialzo in un trend long no le false rotture al ribasso in un trend long si questa è bella per esempio false recupera vabbè poi dovremo andare a vedere ho risposto penso alla domanda di Giuseppe allora Silvia dice mi sono allontanato un momento dal computer e non so se faccio una domanda già detta quando sono davanti a un key buy potrei avere quella che tu chiami una falsa rottura o sto dicendo una cosa del tutto strampalata ma io il key buy non lo uso Silvia è un pullback si ci potrebbe venire a creare però non è un pattern che uso hai capito il key buy il key sell seppur conosco Oliver Velez e Greg Capra nel libro Master Trader ne hanno parlato molto bello qualcuno dei libri più belli non più belli lo metto tra i dieci libri di trading secondo me è interessante però io sto parlando di false rotture qui e quindi non boh c'è il key buy benissimo qua ne vedo qualcuno questo per esempio key buy forse anche questo ma non proprio però questo sì però quello deve partire quindi io ho proprio un modo mio io vi sto parlando di un'esperienza mia vera non ci sono cose che ha metti lo stop piccolo così dopo fai uno a sette uno a otto sono tutte cose lasciano un po' il tempo che trovano nel vero mercato bisogna cercare di guadagnare cercando di gestire bene le cose vedendo e valutando ok Fabio mi confermi anche su eurofranco c'è stata? Urca eurofranco non mi piace tanto è un cambio che non tendo a non fare comunque lo vediamo eurofranco ragazzi ok allora il daily è così quando c'è stata? c'era stata qui qui c'era stata il giorno venerdì 2 settembre io non lo trado questo mercato però venerdì 2 settembre questa in una tendenza short si poteva identificare come falsa rottura sì con la pinbar quindi qui avevamo il massimo qui ne avevamo già uno però questo è quello che poi lui ha falsato vedete ha fatto la prima barra benissimo questa qui è la pinbar con falsa rottura rottura dei minimi stop sopra 1 quindi paracadute ampio e adesso si lavora si gestisce per esempio in questo caso andare a break even è sicuramente ho anche un po' in profitto è sicuramente la cosa migliore da fare ok? sì assolutamente sì molto interessante però non è un cross che io tendo a seguire questo qui io faccio principalmente vi faccio vedere così magari per qualcuno può essere interessante questi mercati qua ok? ve li faccio vedere così questa pro real time di G questi sono i mercati che io tendo a lavorare di più quindi sul forex ho 1 2 3 4 5 e 6 cambi sugli indici ho 1 euro stocks 2 germany dax 3 il nostro america 4 america 5 america 6 quindi ho 6 cambi 6 indici poi ho oro bam petrolio bam quindi materie prime 1-1 e poi ho bitcoin bam quindi ho questi tre mercati poi ci sta che magari tradando bitcoin faccio ethereum a volte oppure tradando l'oro faccio l'argento perché magari è una situazione più chiara sono due mercati molto simili mercati sono correlati poi no? alcuni mercati sono proprio molto molto simili alcuni mercati quindi vi danno dei supporti però se devo prendermi la mia lista da che mi porterai mi dicono devi farti una lista di al massimo quanti mercati sono 6-6-12 poi abbiamo 13 14-15 perfetto di massimo di 15 mercati no? che vai in un'isola deserta non puoi avere altri mercati questi ok? questi qua li porterei con me per tradarli questi qua si Sergio dice Australia dollaro bene andiamo a vedere che cosa fa Australia dollaro tanto da capire qui come siamo messi allora Australia dollaro ha un trend short tra l'altro un mensile guardate qua bellissimo va bene giornaliero sì anche questa Sergio è assolutamente una falsa rottura bravissimi quindi non è difficile poi eh abbiamo dei massimi abbiamo massimo qua 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 qui fa questo no? questo massimo in swing lo rialza fa finta dovete farvi la domanda che cosa è successo fa la finta di salire rompe i massimi e poi in volatilità rientra e vi dico anche che questo qui probabilmente lo preferisco anche all'australiano eh scusate all'euro scusate all'euro dollaro eh? avete capito? questo è bello bello quindi assolutamente interessante perché ci dà insomma un ottimo un ottimo spunto operativo con la falsa rottura quindi Sergio assolutamente sì ok? sono d'accordo con te questa è una classica falsa rottura in tendenza mi piace sto vedendo se c'era qualcosa ma non vedo altre simili qui guardate questa long ragazzi guardate questa long sto cercando di vederele con voi ripeto io vado proprio a ruota libera guardate qua vabbè doppio minimo qua c'era dell'altro bene primo swing ripartenza falso movimento boom recupero in volatilità falsa rottura si acquista qui paracadute qui si gestisce ok? queste se vogliamo sono tra le situazioni più redditizie sul mercato ok? quindi non si tratta il primo pullback ma si tratta la false breakout la falsa rottura del pullback queste robe qui ragazzi non le vedete non le trovate da nessuna parte ve le dico io è trading vero è quello che faccio io non le vedete da nessuna parte sono cose che ho visto negli anni di tanto studio tanta esperienza eseguiti fare stare fermi a volte a volte fare a volte prendere stop a volte gestire la posizione a volte fare dei bei profitti fare trading ok? allora Silvia dice Arduino fra questi mercati su cui operi ne hai alcuni che ti piacciono particolarmente nel caso perché? ma come ti ho fatto vedere quella lì la lista principale perché è la lista che io trado da sempre quindi bene o male chi più chi meno sono mercati che ormai devo dire conosco un po' come le mie tasche cioè sono proprio le cose che io faccio è ovvio che facendo daily e weekly vado ad avere una lista un po' più ampia se uno fa se un trader bravo fa intraday già due tre mercati sono già tanti cioè sono già giusti va bene io ovviamente facendo delle cose un po' più tranquille come operatività seppur sempre nel breve termine però sto dentro qualche giorno magari o qualche settimana per me avere un po' di diversificazione è importante quindi avere un po' più mercati sui quali ogni giorno e ogni settimana ragionare e farmi la mia view e magari trovare degli spunti non voglio dire è necessario è necessario quindi quelli lì che ti ho fatto vedere sicuramente poi se vado sul mondo delle azioni per esempio a me piacciono i titoli italiani infatti abbiamo anche un servizio su Airforex che si chiama Stock Insider dove lavoriamo principalmente sul mercato italiano preferisco questi titoli americani o i titoli alcuni titoli europei per esempio Euronext Francia eccetera eccetera li reputo un po' più con dei movimenti più sani più che riesco a gestire meglio quindi non voglio dire più prevedibili non mi piace la parola ma diciamo capiamoci più più tecnici più non lo so mi piacciono di più quindi se devo prendere quelli però non ho un mercato preferito cioè il mio mercato preferito è quello che in quel momento magari inizia ad avere un trend buono capito Silvia quindi per esempio l'euro dollaro degli ultimi anni nell'ultimo anno e mezzo è un mercato secondo me d'oro il dollaro yen assolutamente anche il neozelanda e l'australia in realtà tutte queste valute dollaro canada ultimamente insomma anche se ho fatto degli ottimi trade quest'anno perché ci guardavo ho fatto quasi tutti i trade positivi penso di aver fatto 6 trade su 6 tutti buoni su dollaro canada però un po' più difficile da capire l'S&P 500 per esempio tra gli indici è uno degli indici forse è quello che io preferisco però non è che mi innamori ho questa lista e tendo a tradare questa allora Giorgio dice questo che spiega adesso è ciò che sta scritto sul tuo libro che si trova anche sul sito beh c'è anche quelle robe lì assolutamente sì però vi dico già vi faccio vedere vi dico già mi spoilero così non vi fate che i libri questo qui è della price action sono i miei libri vi faccio vedere in realtà ce n'è anche uno in più che è follow the winner ma quello lo trovate solo su amazon ed è un è un romanzo che ho scritto io qualche anno fa un po' autobiografico diciamo sul trading eccetera questa qui è una collana di 4 ebook che io ho scritto dal 2010 in realtà questo è scritto dal 2009 fino al 2017 2018 andranno fuori produzione cioè tra un po' li toglieremo dal sito il primo ebook del 2010 toglierò dal sito non mi sembra avere ormai da anni però lo toglierò perché perché su certe gestioni dello stop eccetera riferisce ancora alle gestioni vecchie dello stop quindi gestioni più classiche quindi sto praticamente sistemando la guida definitiva inserendo degli inserti nuovi anche insomma riguardando le vecchie cose sarà la guida definitiva sulla price action 2022 la sto scrivendo proprio in questi mesi la sto sistemando in questi mesi scrivendo alcune cose nuove quindi andrà sul sito questi qua si toglieranno quindi non ci saranno più tra un po' e ci sarà solo il nuovo ebook 2022 allora Vincenzo dice per essere profittevoli dobbiamo anzitutto capire quando stare fuori dal mercato ecco per esempio già un un metodo che ti fa utilizzare poche regole inizio detto poche regole ma buone già questo ti dà un'esclusione di tante cose già il fatto di non andare sotto il daily già questo ti fa escludere tante cavolate tante cose tanti mercati tante robe che sul mercato insomma a volte lasciano un po' il tempo che trovano come movimento ok è molto importante quello che ha detto in questo momento Vincenzo perché anche stare fermi fuori dal mercato è un'azione profittevole a volte Angelo quindi quello che è successo oggi agli indici potrebbe essere di buon auspicio per vedere dei long con vola nei prossimi giorni dei long ma io vedo un S&P che è in che senso dei long io direi degli short allora aspetto un attimo che rileggo Angelo grazie no quindi quello che è successo oggi agli indici potrebbe essere di buon auspicio per vedere dei long con vola nei prossimi giorni ma dei long dove domanda Angelo perché io qui ho i miei dubbi che adesso subito ritorni poi può succedere però long qui ne vedo poco Nasdaq a meno 4 quindi queste cose tutte false rotture però ribasso ragazzi non ci sono ok la vola contraria non so non è quello che ho spiegato oggi Angelo non capisco cosa vuoi dire non so se non capisco io però questa è la vola di oggi in che senso la vola contraria non ho capito questa è già una falsa rottura di base no anche wall street guardate qua falsa rottura quindi non capisco aumenta la vola quindi continuerà la vola no non ho non ho spiegato questo ma non ho mai spiegato questa cosa la vola contraria non so bene a cosa ti riferisci magari se vuoi spiegarmi meglio cercherei anche di spiegarti a te e a tutti perché non vorrei essere che mi aveste frainteso sulle mie esempi ok non vorrei avere spiegato non bene ok allora dollar canada sul daily dollar fra no però dollar canada sai cosa bellissimo il movimento però non mi fa questo falso però non mi piace sul weekly ancora devo aspettare devo capire meglio bellissimo il weekly ma lo aspettiamo ok aspettiamo un attimo però si ci sta dollar franco anche questo incasinato ragazzi non prendiamo questi mercati incasinati qua non hanno trend meglio dollar canada a quel punto dollar canada vedi che è già più long qui ha fatto questo falso minimo aumenta la vola allora se vi devo dire prendo questi qui che abbiamo visto oggi probabilmente l'australiano è quello che preferisco e quindi è assolutamente per lo short qui no perché il mercato è in falsa rottura e quindi assolutamente va per essere venduto ok va bene va bene ok angelo ci sentiamo per quello tanto tu sei anche iscritto eccetera va bene ok allora io spero di avervi spiegato bene le cose per qualsiasi cosa comunque potete scrivere direttamente qui sul sito avete anche il whatsapp c'è il whatsapp cliccate scrivete ci sentiamo c'è la mail info yearforex.com avete il blog sul blog ci sono degli articolini carini che sono sempre verdi perché non trado le notizie le regole del money management come filtrare migliori segnali correlazioni perché fare trading forex less is more eccetera eccetera quindi guardate esempi di false rotture eh ho anche un blog qui l'ho scritto qualche mese fa forse un anno fa bene andate a vederlo io a questo punto vi saluto ricordo che se non siete ancora iscritti al canale youtube di artforex iscrivetevi iscrivetevi perché non vi fa piacere avere le iscrizioni magari attivate la campanella così almeno riusciamo a essere sempre attivi con voi e noi ci vediamo al prossimo webinar nei prossimi video sapete che insomma siamo sempre online sul canale di G o sul canale di arduino non è un problema seguite tutti anche le live insomma IG fa un sacco di cose quindi seguiteci bene io vi saluto vi auguro una bellissima serata buonissima serata vi auguro una buona settimana un buon trading simple e alla prossima ciao a tutti grazie a tutti grazie a tutti